bonus cultura il tribunale assolve un commerciante morì per cirrosi epatica risarcimento di un milione di euro agli eredi di una donna furto aggravato un trentenne denunciato dalla polizia di stato a calta insetta ispezioni in diversi cantieri edili quattro segnalati asili nido comunali ammessi altri 15 bambini stadio tomaselli il punto della situazione questura di calta nissetta libro scaricabile gratis nissa dimissioni del direttore sportivo massimo ferraro intervento di acona ben trovati partiamo dal bonus cultura il tribunale assolve un commerciante la procura aveva chiesto una condanna a otto mesi il fatto non è previsto dalla legge come reato con questa formula il tribunale di calta nissetta assolto un commerciante nisseno accusato di avere violato le disposizioni previste dal bonus cultura che era stato approvato negli anni scorsi dal governo renzi in particolare il commerciante secondo quanto emerso dalle indagini di procura e guardia di finanza aveva consentito ad alcuni studenti di acquistare dispositivi quali smartphone e tablet invece di materiale didattico così come previsto dal bonus cultura nel corso delle indagini era scattato anche il sequestro di alcuni beni e conti correnti per quasi 330 mila euro anche se poi l'importo dei beni sequestrati era stato ridotto a seguito dei ricorsi presentati dalla difesa la procura aveva chiesto la condanna dell'imputato a otto mesi e l'avvocato dello stato giuseppe la spina legale di parte civile per conto del governo nazionale aveva chiesto il risarcimento dei danni su tutt'altra lunghezza d'onda gli avvocati difensori giuseppe pane pinto e giuseppe di buono i quali nel chiedere la soluzione del loro assistito hanno sottolineato come il commerciante avesse sempre regolarmente presentato tutta la documentazione relativa al suo lavoro dalla quale emergeva che nel novero degli acquisti da effettuare erano previsti anche quelli dei libri elettronici gli ebook e dei relativi dispositivi per leggerli quali appunto computer smartphone e tablet i difensori hanno anche evidenziato come la vicenda chiusasi con una soluzione abbia segnato la vita del commerciante che è stato costretto a chiudere l'attività a seguito dei sequestri a licenziare otto dipendenti morì per cirrosi epatica risarcimento di un milione di euro agli eredi di una donna sentiamo la sezione civile della corte d'appello di calta nissetta ha condannato il ministero della salute a versare un risarcimento da un milione di euro agli eredi di una donna nissena deceduta a causa di una cirrosi epatica contratta a seguito di una trasfusione di sangue infetto una vicenda che affonda le sue radici nel tempo visto che la trasfusione venne eseguita nel 1972 poi l'insorgere dell'epatite c sfoggiata in una cirrosi epatica anni di sofferenze fino al decesso della donna nel 2009 all'età di 64 anni i figli della sfortunata 64enne hanno quindi chiesto che venisse accertata la responsabilità del ministero della salute e il loro legale l'avvocato ivano costa aveva presentato ricorso le perizie effettuate nel corso del giudizio civile avevano accertato il collegamento tra la trasfusione l'insorgere della malattia ma in primo grado il risarcimento non era stato concesso in quanto nel 1972 non vi era ancora una conoscenza scientifica della possibile veicolazione del virus dell'epatite c isolato solo nel 1978 attraverso il sangue infetto e che dunque il ministero non aveva violato alcun obbligo di vigilanza l'avvocato costa aveva però presentato appello e stavolta i giudici di secondo grado hanno stabilito nella loro sentenza che in ogni caso il ministero della salute ha comunque l'obbligo di vigilare attentamente sulla preparazione e sull'utilizzazione del sangue degli emoderivati per prevenire e impedire la trasmissione di malattie non è il primo caso del genere che viene analizzato dai giudici nisseni in passato infatti sono stati concessi altri risarcimento per trasfusioni di sangue infetto in molti casi risalenti agli anni 60 e 70 quando i controlli erano meno accurati e le sacche contenenti sangue infetto rischiavano di girare con maggiore facilità anche al tanissetta un trentenne è stato denunciato dalla polizia di stato per furto aggravato il servizio i poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale procura della repubblica un trentenne per furto aggravato l'uomo avrebbe usufruito di acqua ed energia elettrica nella propria abitazione grazie agli allacci abusivi nei condatori dei vicini gli agendi della polizia di stato lunedì pomeriggio di seguito a una segnalazione pervenuta alla sala operativa della questura sono intervenuti in un'abitazione del centro storico dove hanno constatato la presenza di collegamenti eseguiti in modo rudimentale nel vano condatori dello stabile sul posto sono intervenuti anche i tecnici degli enti gestori dei servizi enel distribuzione e caltacqua che hanno accertato la manomissione dei condatori e rimosso gli allacci abusivi ispezioni in diversi cantieri edili nell'agrigentino quattro segnalati all'autorità giudiziaria quattro persone nel dettaglio due imprenditori e due committenti dei lavori sono state denunciate dai carabinieri dopo una serie di controlli in due cantieri edili di san giovanni gemini e castrofilippo nel primo caso è arrivata la denuncia per l'amministratore unico di una ditta edile di san giovanni gemini per deposito di materiale sulle impalcature ponteggio di forme rispetto a quello previsto e mancanza di scale fisse in costruzione stesso destino per la committente dei lavori una donna 37enne sempre di san giovanni gemini denunciata per omessa nomina del coordinatore di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori a castrofilippo il titolare di un'impresa edile è stato denunciato a piede libero con l'accusa di non avere predisposto la sorveglianza sanitaria dei dipendenti oltre che per la mancata consegna di dispositivi di protezione individuale della redazione del piano di sicurezza e dell'installazione del quadro elettrico di cantiere i militari dell'arma hanno pure accertato la presenza di un lavoratore in nero denunciata anche la committente dei lavori una donna di 66 anni ritenuta responsabile di omessa verifica tecnico professionale sull'impresa esecutrice dei lavori nel dettaglio sono state elevate multe per complessivi 75.345 euro e sanzioni amministrative per 6.766 euro controlli dei carabinieri tra canicattì e campo bello di ricata due denunce e una segnalazione alla prefettura due denunce a piede libere una segnalazione in prefettura il bilancio di una serie di controlli effettuati dai carabinieri tra canicattì e campo bello di ricata la prima denuncia è scattata nei confronti di una giovane disoccupata canicattinese di 27 anni accusata di avere violato la sorveglianza speciale che prevede l'obbligo di soggiorno e il divieto di uscire da casa propria dalle 20 e 30 alle 7 in quella fascia oraria nel corso dei controlli dei militari dell'arma la donna non era stata trovata in casa e quindi gli investigatori non hanno potuto fare altro che denunciare l'accaduto alla procura grigentina denunciato invece per guida sotto l'effetto di alcol un artigiano di 55 anni di campo bello di ricata che è stato trovato alla guida del rasù a reno megan con un tasso alcolemico di 0.99 nel sangue quindi superiore allo 0.5 previsto dalla legge un canicattinese di 22 anni è stato segnalato come assuntore in prefettura dopo essere stato trovato in possesso di 15 grammi di hashish lo stupefacente è stato naturalmente sequestrato nel corso dell'attività dell'arma sono state controllate circa un centinaio di persone e altrettante autovetture sei invece le perquisizioni domiciliari e veicolari eseguite inoltre in prefettura da grigento è stato anche convocato un tavolo permanente dopo che era stato siglato il patto per la sicurezza fra il sindaco di canicattia il prefetto maria rita cocciufa è con un post che l'asp comunica che dal 19 ottobre è attivo il call center della centrale operativa cure palliative dell'asp di caltanissetta dedicato ai pazienti terminali o a chi deve affrontare un percorso di cure palliative pazienti familiari operatori sanitari potranno chiamare per ricevere assistenza e informazioni dettagliate ci saranno gli operatori dedicati a rispondere dalle 8 del mattino alle 20 tutti i giorni feriali dalle 8 del mattino alle 14 nel sabato non festivo e per quanto riguarda il numero è lo 0934 50 66 66 parliamo adesso di union camere il piano strategico per le infrastrutture in sicilia è stato presentato sono state individuate ben 13 aree tra cui xirbi vittaino e gela in sicilia avere l'alta velocità ferroviaria la chiusura dell'anello autostradale e l'attraversamento stabile del ponte sullo stretto di messina non sarebbe sufficiente a superare il divario di mobilità se poi le aree produttive dell'isola nel loro complesso non venissero connesse agli assi principali e le merci non potessero raggiungere rapidamente agevolmente porti aeroporti e terminali intermodali inizia così il comunicato della union camere sicilia sulla presentazione del piano strategico per le infrastrutture nell'isola nella fattispecie il piano strategico realizzato da union camere sicilia in sinergia con il sistema delle camere di commercio esolane grazie a fondi di union camere nazionale individua 13 aree sulle quali velocemente con poca spesa secondo la proposta messa a disposizione dei nuovi governi nazionale regionale e dei capitali privati si possano realizzare nodi logistici interconnessi che consentano a qualsiasi azienda ovunque si trovi di collegarsi ai punti di destinazione dei propri prodotti sono spiega giuseppe pace presidente di union camere sicilia nodi logistici interconnessi che rappresentano il futuro della mobilità concetto ribadito dall'ingegnere marco calì della mc2 innovation che con i colleghi vincenzo garofalo e mauro ballotta ha realizzato il piano strategico per il non camere sicilia un sistema infrastrutturale steso e sicuro spiega assieme ad una mobilità dei passeggeri delle merci rappresenta un elemento prioritario per lo sviluppo economico dei territori e per la competitività delle imprese secondo alessandro albanese invece il ponte è la madre di tutte le infrastrutture basta derby palermo catane su interporti e aeroporti dice il vicepresidente di union camere sicilia vogliamo mettere d'accordo politiche e parti sociali gianfranco messina infine project manager della zess sicilia occidentale annuncia che molte imprese estere hanno fatto domande di autorizzazione insediamenti in aree zess quanto alle infrastrutture conclude messina abbiamo individuato l'asse viario principale quello fra termini merese e marsala che passa da tre porti due aeroporti e incrocia tutte le aree industriali di nostra competenza in 24 comuni l'obiettivo del piano strategico per le infrastrutture nell'isola recita la noto di union camere sicilia è quello di fornire analisi ipotesi di intervento e contributo operativo allo sviluppo delle reti materiali ed immateriali per supportare una più efficace pianificazione ed una veloce realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi su strade ferrovie porti aeroporti città fiere interporti e connessioni digitali la camera di commercio di caltanissette in una nota comunica che in riferimento agli avvi delle zone economiche speciali ovvero le zess è già attivo lo sportello unico digitale dedicato alle zess sicilia occidentale sarà possibile iscriversi ad un webinar gratuito martedì 8 novembre 2022 dalle 10 alle 12 un webinar dedicato ad imprese professionisti per scoprire le modalità tecniche di presentazione di una pratica diretta ad una zessa attraverso lo sportello unico digitale dedicato il link di iscrizione è disponibile sul sito della camera di commercio nissena e inoltre viene puntualizzato nella nota che il webinar è destinato a imprese e professionisti e non sarà registrato è anche garantita l'iscrizione ai primi 500 richiedenti e non è previsto rilascio di attestati di partecipazione parliamo adesso degli asili nido comunali ad essere ammessi sono stati altri 15 bambini a caltanissetta a parlare l'assessore alle politiche sociali cettina andaloro ammessi altri 15 bambini negli asili nido comunali il comune di caltanissetta attraverso la direzione settima politiche sociali scuola servizi demografici sport cultura e turismo ha decretato infatti avendo la copertura finanziaria necessaria l'ampliamento dei posti disponibili utilizzando lo scorrimento dell'agrodatoria esistente e dunque sono tre gli asili che potranno ospitare i nuovi ammessi che erano in lista d'attesa cinque per ogni asilo e per l'esattezza quello di santa petronilla cola janni in via degli orti e pierpaolo pasolini è una promessa che avevamo fatto all'inizio dei primi giorni di settembre quando abbiamo aperto i nostri quattro asili comunali ai bambini che ne avevano fatto richiesta allora contavamo e questo abbiamo adesso ne abbiamo adesso la certezza di ulteriori fondi aggiuntivi per cui abbiamo ampliato e preso e faccio entrare quei bambini che erano rimasti di lista d'attesa sono in tutto 15 che andranno a usufruire sui spazi degli asili comunali con questi ulteriori 15 bambini noi abbiamo raggiunto il nostro limite massimo degli spazi vitali e delle risorse fisiche e delle persone che lavorano lì dentro gli agenti della polizia postale hanno incontrato circa 120 studenti dell'itet rapisardi da vinci di calta nissetta per il progetto cyberbullismo di end che ha lo scopo di sensibilizzare e prevenire i rischi e i pericoli della rete il progetto è organizzato dalla rete di scuole nissene che comprende l'istituto comprensivo lombardo radice scuola capofila l'istituto comprensivo don milani e poi il circolo didattico leonardo sciascia litet rapisardi da vinci di calta nissette che prevede anche interventi formativi indirizzati a alunni studenti docenti e genitori ora parliamo dello stadio tomaselli faremo il punto in questo servizio sulle linee del rettangolo di gioco e omologazione la questione stadio tomaselli tiene sempre banco la domanda adesso che chiedono tutti sia addetti ai lavori che i cittadini e quando riaprirà lo stadio il progetto prevedeva un intervento per la realizzazione di un imbiando sportivo polivalente nel particolare il rifacimento del fondo campo in mando di erba artificiale finalizzato al miglioramento dell'imbiando sportivo per la pratica sportiva di calcio e rugby abbiamo contattato il sindaco roberto cambino l'assessore marcello franciamore che non ci hanno rilasciato interviste in merito ma ci hanno lasciato questa nota che trattandosi di regolamenti approvati dalle rispettive federazioni sportive ed alconi è evidente che ai fini dell'omologazione il comune di calta nissetta può soltanto ottemperare a quanto richiesto dai vari organi ufficiali sportivi considerando che attualmente le principali squadre di calcio e rugby militano rispettivamente il cambiato di eccellenza il calcio in serie c rugby è volontà di questa amministrazione dare l'opportunità ad ambedue le squadre di poter utilizzare lo stadio marco tomaselli previa omologazione di ambedue le federazioni tracciando in modo stabile solo le linee del calcio e con vernici pitturate con le rugby è possibile ottenere ambedue le omologazioni e consentire alle due squadre di poter utilizzare i fini agonistici l'imbiando del marco tomaselli poiché i pareri e i regolamenti sopra riportati sono successivi alle date del bando il capitolato tecnico deve essere adeguato alle successive valutazioni necessarie ai fini delle rispettive omologazioni trattandosi inoltre di lavori a misura la loro variazione entro certi limitri non pregiudica la validità dell'appalto e lo stesso sono oggi al vaglio dell'ende concedente il finanziamento per la loro approvazione ad oggi non è stato ancora emesso il certificato di ultimazione dei lavori 1 milione 100 mila euro per adeguare gli impianti elettrici di tre dighe in sicilia tutte nell'ennese lo prevede un bando del dipartimento acqua dei rifiuti pubblicato sul sito istituzionale della regione siciliana in particolare si legge in una nota della regione nella diga olivo incontrata a gritti a piazza armerina verranno eseguiti i lavori su distribuzione esterna cabina elettrica due gruppi elettrogeni cunicoli di drenaggio vasche di sollevamento nella diga sciaguana da gira si interverrà su distribuzione esterna cabina elettrica e gruppo elettrogeno cunicoli di drenaggio nella diga nicoletti incontrata nicoletti serra leonforte su distribuzione esterna cabina elettrica e gruppo elettrogeno e sugli impianti di vari uffici cunicoli di drenaggio i lavori sono finanziati con risorse del 2014 2020 del patto per il sud della regione siciliana le offerte vanno trasmesse per via telematica entro le ore 13 del 22 novembre l'appalto che sarà espletato dall'orega di enna prevede una durata dei lavori di 180 giorni dalla data di consegna adesso parliamo della questura di caltanissetta e del libro di salvatore falzone ora scaricabile gratuitamente dal sito internet della polizia di stato il libro del sostituto commissario salvatore falzone arriva in versione digitale si può scaricare in formato ebook dal sito questura della polizia di stato punto it presentato lo scorso 11 luglio nella sede della fondazione sicana per i 170 anni della fondazione della polizia di stato il libro questura di caltanissetta e questori autorità provinciali di pubblica sicurezza è stato da subito molto apprezzato agli addetti ai lavori la prefazione è stata curata dal capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza prefetto lamberto giannini un testo che celebra e racconta oltre un secolo e mezzo di attività di pubblica sicurezza a caltanissetta dal 1860 al 2022 il racconto si snoda attraverso le vicende di questori funzionari di polizia guardie di pubblica sicurezza e agenti che hanno segnato la storia del capoluogo nisseno falsone restituisce così uno spaccato della vita della città che prima di questo libro era sconosciuto ai più un lavoro di ricerca attento quello compiuto dall'autore impreziosito da una parte documentale di atti storici sulla questura nissena custoditi dall'archivio di stato di caltanissetta e pubblicati su concessione del ministero della cultura 53 anni nisseno è oggi sostituto commissario coordinatore della polizia di stato la sua carriera a inizio nel 1987 a palermo poi dal 1996 trasferito alla questura di caltanissetta falsone si è occupato di controllo del territorio misure di prevenzione personale e patrimoniale antimafia nel 2000 presta servizio all'ufficio di gabinetto del questore è attualmente responsabile del settore affari generali dell'ufficio per la sicurezza personale dell'ufficio comunicazione della pagina web della questura di cui è portavoce da anni cura progetti di prossimità della polizia di stato rivolti alle scuole nissene di tutti gli ordini incontrando centinaia di studenti commemorazione dei defunti ci sono degli aggiornamenti che riguardano la viabilità in centro storico sentiamo si avvicina la commemorazione dei defunti e in arrivo anche aggiornamenti su quanto deciso dal comune in merito alle possibilità di accesso al cimitero angeli dalle 7 del mattino alle 17 del pomeriggio per i giorni che vanno dal 30 ottobre al 2 novembre proprio in questi giorni non si potrà accedere con le proprie auto né da né per il cimitero sarà il personale del comando della polizia municipale a garantire una maggiore sicurezza di accesso al cimitero e di rispetto del divieto di accesso veicolare per tutti e quattro i giorni proprio per fronteggiare i limiti del traffico veicolare è stato attivato il servizio navetta che seguirà un percorso particolare si avrà il capolinea in corso umberto isola pedonale vicino al comune passerà poi da corso vittorio emanuele via medaglie d'oro via angeli ed infine piazzale cimitero da lì il percorso sarà ripetuto al ritorno il servizio navetta sarà comunque operativo dalle 7 30 del mattino alle 17 30 gratuitamente per i quattro giorni dal 30 ottobre al 2 novembre per il concorso russo in musica le iscrizioni potranno essere effettuate entro il 21 novembre esibizione al margherita il 13 dicembre torna russo in musica la manifestazione musicale dell'istituto di istruzione secondaria superiore luigi russo di caltanissetta guidato dalla dirigente maria rita basta l'iniziativa si inserisce nel piano triennale dell'offerta formativa 2022 2023 dell'istituto e punta alla promozione della cultura musicale quale patrimonio universale da promuovere tra le nuove generazioni si legge nel regolamento nel processo di maturazione affermazione dell'identità e nel rispetto delle diversità c'è tempo sino al 21 novembre per le iscrizioni i concorrenti selezionati potranno poi esibirsi il 13 dicembre al teatro regina margherita partecipano a questa manifestazione a questo concorso tutte le scuole della secondaria di primo grado e di secondo grado dell'ambito 04 che significa caltanissetta san cataldo serra di falco delia sommatino musso meli mile e insomma la zona anche del vallone possono partecipare con categorie nelle categorie solisti vocale e strumentale gruppi vocale strumentale orchestrale e corale abbiamo ricevuto sempre delle numerose iscrizioni e infatti abbiamo prima una giuria a scuola costituita da personale titolato che fa una prima selezione perché alla gara arrivano in 12 concorrenti ci sarà le premiazioni per tutte le categorie e poi ci sarà anche il premio del vincitore assoluto una vera e propria festa della musica che ritorna con la sua quinta edizione dopo la pausa causata dalla pandemia noi siamo veramente felici perché dopo due anni di fermo siamo riusciti a riproporre il concorso e questa sarà la quinta edizione di due anni ci hanno fatto soffrire molto sarà bellissimo comunque vedere i ragazzi trepidanti dietro le quinte che aspettano di esibirsi di cantare continuano gli interventi della settantesima stagione concertistica promossa dall'associazione amici della musica di caltanissetta protagonisti del quinto appuntamento il gruppo emiolia consort il concerto ci sarà il venerdì 28 ottobre alle 18 e 15 all'auditorium del liceo musicale manzoni juvara di caltanissetta con ingresso libero il gruppo è costituito da marcella evanastringi soprano rosa maria chiarello mezzo soprano violini gaetano costa e roberta licalzi al violoncello laura verde al contrabbasso giusi terrana e pianoforte paola milazzo il consort è un termine utilizzato in inghilterra per indicare un insieme strumentale nasce dalla collaborazione tra i docenti dei diversi ordini di scuola della città di caltanissetta appartengono infatti all'insieme strumentale e vocale i docenti della scuola primaria caponnetto della scuola secondaria di primo grado pietro leone del liceo musicale manzoni juvara il gruppo eseguirà brani di pac bell vivaldi e un estratto di dello stab at mater di boccherini parliamo adesso della nissa dimissioni del direttore sportivo massimo ferraro ed intervento del presidente sergio iacona con una nota sulla pagina facebook della nissa il presidente sergio iacona scrive che a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal signor massimo ferraro riteniamo doveroso fare chiarezza sulle reali motivazioni delle dimissioni dell'ormai ex direttore sportivo va detto che lo stesso ha preferito dare notizia delle dimissioni tramite testata giornalistica piuttosto che comunicarle alla società sin dall'inizio la società ha messo lo stesso ds nelle migliori condizioni per svolgere il suo mandato tuttavia alla carenza dei risultati si aggiunta la volontà del ds di continuare sulla sua strada ben diversa da quella della società ferraro ha scelto liberamente di continuare a non confrontarsi apertamente con la società di non condividere in alcun modo le scelte con le persone indicate dalla stessa per collaborarlo al solo fine di iniziare un nuovo percorso di miglioramento dei risultati e di una migliore gestione economica sin cui certamente fuori dalle indicazioni iniziali riteniamo altresì doveroso evidenziare che nessun giocatore è stato sin cui allontanato per scelta o decisione della società ieri pomeriggio esclusivamente per loro scelta tre giocatori hanno deciso di non proseguire il loro cammino con la nissa altri due invece su richiesta dello staff tecnico sono stati messi fuori rosa la società nissa rispetta la sua scelta personale lo ringrazia comunque per il lavoro svolto e per l'impegno profuso mai messo in discussione la società bianco scudata augura al signor ferraro tutto il meglio possibile per il proseguimento della sua carriera la società andrà avanti con un'attenda programmazione che privilegia innanzitutto la coesione tra tutte le componenti societari e una crescita graduale ed equilibrata avevamo contattato il ds ferraro che si è riservato di non rilasciare nessuna intervista in merito da poche ore sulla pagina facebook della nissa è stato pubblicato un post firmato dal presidente iacona nel quale si legge i precedenti comunicati relativi alle dimissioni del direttore sportivo massimo ferraro hanno alimentato sui social una polemica molto sostenuta con la pubblicazione di commenti anche eccessivi ed offensivi desidero precisare che il rapporto si è interrotto esclusivamente per legittime divergenze su valutazioni importanti per il proseguimento della vita societaria tali divergenze non implicano in alcun modo una valutazione negativa sulle capacità professionali del ferraro né tantomeno sulle qualità personali dello stesso sono fermamente convinto che ferraro sia un ottimo dirigente sportivo un capace dirigente un uomo di sport semplicemente su alcune cose abbiamo fatto valutazioni diverse personalmente me ne dispiace desidero inoltre rivolgere un perentorio invito a non pubblicare giudizi offensivi nei confronti dello stesso in quanto non consoni allo stile che questa società si è imposta questa edizione del nostro telegiornale termina qui vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità buon proseguimento amici trevi meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre presioni per la giornata di giovedì che vedrà ancora alta pressione sul mediterraneo e su italia ma non solo da noi in mezzo a europa si estende questo campo anticiclonico che blocca le perturbazioni atlantiche come vedete i sistemi nuvolosi rimangono ben a ovest del continente e così per quanto riguarda le nostre regioni un po' di nuvolaglia si farà anche vedere ma si tratterà solo di nuvole alte per il resto ampie zone di sereno e assolutamente niente precipitazioni quindi vediamo la mappa delle piogge non compare neanche una macchiolina azzurra e ovvio che con un'alta pressione del genere come possiamo sperare in un po' di precipitazioni quindi in definitiva giornata di sole in italia attenzione sola foschie e banchi di nebbia di nota primo mattino in pianura padane nelle valli del centro in queste zone inizio di giornata piuttosto grigio ma poi sole protagonista ovunque e temperature davvero particolarmente miti per il periodo al centro sud superiamo i 25 gradi ma ci avviciniamo anche ai 28 30 per sapere fino a quando andremo avanti così e come sarà il ponte di ogni santi consultate l'app gratuita di trebi meteo servizi di pubblica utilità farmacie di turno caltanissetta servizio diurno buonasera via edmondo de amicis servizio notturno marrocco via rosso di san secondo farmacie di servizio 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 di serviz